L'obiettivo è di mezzare il numero di incidenti e vittime della strada. La realtà, invece, è che i dati sono in crescita. Dati stridenti, quelli portati dal prefetto Michele Campanaro al tavolo di monitoraggio sugli incidenti nel Potentino, che ha riunito oggi. Rispetto all'anno preso a riferimento dalla UE per l'obiettivo di mezzamento, il 2019, nel 2022 gli incidenti sono cresciuti da 516 a 541, circa il 110% in più rispetto al target. Ugualmente, i morti sono aumentati da 16 a 25, con un più 212% sull'obiettivo, e i feriti, passati da 833 a 748, si attestano a livelli doppi rispetto all'indicazione UE. Vuol dire un incidente, virgola 48 al giorno. Il numero dei feriti, 748, anche questo, sono circa 2,01 feriti al giorno. E mi sembra sia una bollettina di guerra. Già avviati controlli mirati sulle principali cause, ossia l'uso di stupefacenti e alcol, con la parallela richiesta di campagne educative. Ma è anche forte l'attenzione per lo stato critico delle infrastrutture, che risente anche di troppi lavori. Ci sono troppe strade cantierizzate, e indubbiamente anche questa è una delle cause. Un appello a fare di più. A qui si aggiunge il richiamo degli automobilisti. Le imposte specifiche portano nelle casse degli enti territoriali un notevole flusso di danaro. Penso che il cittadino automobilista chieda agli enti che queste risorse vengano correttamente e virtuosamente investite. E il prefetto ha annunciato anche una revisione della mappa delle strade su cui sono possibili controlli con autovelox. Obiettivo? Utilizzarli per garantire sicurezza lì dove servono.